Deve vedere le carte voi, no? Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Il nostro corso gratuito è un po' di più di più di più di più di più di più. No, 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 no. 2x2 Faisi Questa è il drop? Hai visto il drop? Si No, no No, no E' un poco menos de agua, no? Eh? Un poco menos si we No, porque si puede echar la venta Sì, sì, sì. Mi ha riuscito il frio. Ti ha detto che ti è affermato? Sì, sì. Grazie a tutti. 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 Wow. Grazie a tutti. Grazie a tutti. I'm gonna do it. Yeah. 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 Oh! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.